Un buongiorno, buongiorno. Un buongiorno, buongiorno. Un buongiorno del quotidiano del centro, la prima che vedete alle mie spalle, è l'edizione di Pescara che apre con le nomine alla BCC indagati. Tre notai, Pescara. Il PM chiude l'inchiesta e ipotizza il falso sulle deleghe all'Assemblea del 2015. In alto, in questioni che riguardano la politica nazionale e anche abruzzese, per esempio per le presidenze di Camera e Senato, rottura ieri tra Berlusconi e Salvini, la Lega, noi con il Movimento 5 Stelle. Nella foto, la senatrice Bernini, votata dalla Lega, Bernini di Forza Italia, lei ha detto di no. Politica regionale, invece, di Matteo, dobbiamo superare il dalfonsismo. Vediamo queste le parole di Donato Di Matteo. Scendiamo all'interno della prima pagina, vediamo la fotonotizia. Pescara, la scuola ricorda le vittime delle mafia, l'istituto alberghiero, la figlia di un commerciante che è stato ucciso. Nelle cronache di spalla, Pescara ha denunciato, scoperto falso dietologo, che aveva 400 clienti. Per l'omicidio neri spunta la pista della gelosia e a Francavilla c'è la retromarcia del sindaco Luciani che dice torno a fare il sindaco. L'ora della terra, oggi si spengono le luci, il WWF dice difendiamo il pianeta. Per la cultura, otto documentari premiati per raccontare la nostra regione. Vi ricordo, ovviamente domani, e ve lo ricordo anche il giornale, torna l'ora legale. Stanotte bisogna regolare le lancette un'ora avanti, dunque si dormirà un'ora di meno. Per lo sport, l'Italia riparte con un tonfo. Questa è la notizia sul centro. Ieri sera l'amichevole contro l'Argentina, la prima del CT di Biagio è un flop. Azzurri, KO con l'Argentina. E poi in basso, oggi inizia il torneo delle regioni, proprio in Abruzzo. Campioncini al via. Questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara. Cambiamo edizione, andiamo su quella di Chieti. In ospedale arriva il robot chirurgico ad ortopedia. Chieti il primario Salini in funzione da maggio. E ci saranno minori tempi di degenza. La fotonotizia, anche qui gli studenti ricordano le vittime della mafia. In 500 partecipano alla manifestazione di Libera. Nelle cronache, parco commerciale, il Tar rinvia la decisione su Mirò. Ad Atessa, Sevel, Fiom, basta weekend al lavoro. Poi su questo vedremo proprio un servizio nella seconda parte. Tassa rifiuti a vasto, nessun aumento per le tasse. Scende la Tari. Edizione di Teramo, sempre del quotidiano Il Centro. Tari più salata per le famiglie. Il commissario decide di alleggerire alle imprese la tariffa del servizio per i rifiuti. La fotonotizia qui invece è dedicata alla politica. perché Gian Guido D'Alberto ha scelto come candidato dall'Alleanza Civica. Le comunali a Teramo si profila un duello con Giandonato Morra. Di spalla, nelle cronache, ospedale Mazzini. De Genti vinta la battaglia della colazione. La denuncia della CGL. Mense sono senza diritti, 400 lavoratori. E poi il progetto a Roseto, una nuova area commerciale proprio a sud di Roseto. Andiamo, chiudiamo le quattro edizioni del centro con quella aquilana. Campo imperatore. L'apertura è un giallo. L'Aquila c'è tanta neve, ma non si scia. Manca l'ok della regione per la seggiovia. La fotonotizia. Le zeppole di un sulmonese conquistano gli americani. La storia del pasticcere Palazzone. Palazzone e le sue famose zeppole che stanno facendo furore negli Stati Uniti. E davvero complimenti a questo pasticcere sulmonese. All'Aquila è elettrodotto da interrare. C'è l'accordo ad Avezzano comune. Crisi superata. De Angelis resta tra i veleni. E all'Aquila il sindaco vieta l'alcol nel derby con l'Avezzano. Domani derby sentitissimo proprio tra l'Aquila e l'Avezzano. Si gioca al Gran Sasso d'Italia. Nel Italia concia dell'Aquila. Cambiamo quotidiano adesso. Andiamo sulle colonne del messaggero. Ale, ovviamente siamo sull'omicidio neri. Il rebus delle due società. Leggiamo le sedi già perquisite dalla finanza. Non solo legate ai familiari della vittima. La mamma scrive al Papa. Non odio gli assassini di mio figlio ma devono convertirsi. Di spalla fai giornata alla scoperta delle meraviglie del territorio. Sempre per la cronaca. Fiamme gialle in azione. A Pescara ha scoperto un falso dietologo. In alto. Sport. Serie di L'Aquila. Società messa in liquidazione. Per il calcio a 5. Futsal questa sera. L'acqua e sapone in semifinale. Con il Napoli in Coppa Italia. Ma ovviamente c'è anche il calcio. Il Pescara contro l'Empoli. Inizia il ciclo della verità. Si gioca domani perché il campionato è fermo per impegni della nazionale. Anche se sono solo impegni amichevoli. E allora la Serie B prende il proscenio della domenica. In sei partite ravvicinate. Il Delfino di Epifani dovrà conquistare tranquillamente la salvezza. Oppure le cose, come si legge, potrebbero complicarsi. Scendiamo. Elezione alla BCC. L'inchiesta si estende ai notai. Anche qui viene ripresa la notizia. In tre rischiano il processo per falso riguardo alla sottoscrizione delle deleghe. E poi, torniamo sulla vicenda Rigopiano. Rigopiano nessun risarcimento a Matrone. Valanga sull'hotel. La polizza della provincia. Nessun risarcimento. L'assicurazione della provincia di Pescara. Archivia senza seguito la posizione di Giampaolo Matrone. 35enne sopravvissuto. Ma con una menomazione alla tragedia di Rigopiano. Nella quale ha perso, lo ricordiamo, la moglie Valentina. A Chieti, il prof ubriaco alla guida dell'auto. Un anno di arresto e 6.000 euro di ammenda. Cambiamo quotidiano. Andiamo in provincia di Teramo con la prima pagina del quotidiano La Città. Fondazione paralizzata dal Crack Tercas. Al processo Palazzo Melatino chiede i danni alla governance che ha portato al commissariamento. A centropagina, parola ai cittadini per il Teatro Romano. Il comitato raccoglie e rilancia per il referendum. Teramo al voto 1. Cavallare e Dalberto, ognun per sé, e il PD soletto. Teramo al voto 2. Ovviamente dal centro-sinistra, in questo caso passiamo al centro-destra. Tutti con morra ma divisi. Quagliariello, pensaci tu. In basso per lo sport, basket, Teramo Basket. Via all'era di Francesco Gramenzi, dopo l'addio con l'ex coach Piero Bianchi. Cambiamo adesso, andiamo sulle colonne dei quotidiani nazionali per vedere le notizie principali, soprattutto che interessano la politica. e iniziamo ovviamente dalle presidenze delle due camere, dalle strategie dei partiti. Ecco, vedete, il Corriere della Sera, proprio questa, è l'apertura. Salvini strappa, intesa con Di Maio. Si rompe il centro-destra. Berlusconi dice che è un atto stile. Il leader dei 5 Stelle, un segnale per il governo, le presidenze delle camere. Il segretario del Carroccio ha evitato una trappola a Silvio. Il nome per Montecitorio è Fraccaro. E poi il racconto di Gian Antonio Stella, il petardo acceso alla buvette. Scendiamo perché ovviamente ci sono anche le questioni internazionali che riguardano per esempio la Francia, ancora sotto attacco. Francia uccisi tre ostaggi, torna il terrorismo ISIS, prima prova di Macron, assalto al supermercato a un agente eroe. E poi fonti britanniche sul caso delle spie, passo dell'Europa, pronti ad espellere i diplomatici russi. Cambiamo quotidiano, andiamo su Repubblica. Anche qui ovviamente l'apertura è dedicata alla politica e c'è il caso centro-destra al Senato che esplode, si rafforza l'asse Salvini-Di Maio. Peraltro, come vedete, riassunto in questo murale che è apparso ieri a pochi chilometri dal Parlamento, poi è stato cancellato. Il Movimento 5 Stelle apre alla Bernini, voluta dalla Lega, pronta a votare un grillino alla Camera. Lei rinuncia, Berlusconi, l'alleanza è finita, il nostro candidato resta Romani, Napolitano, critica Renzi. E poi il punto di Stefano Folli, la sfida finale alla stagione del Cavaliere. L'assalto ISIS, tre morti, prendi me e lascia gli ostaggi, grave la gente, eroe in Francia. Il Fatto Quotidiano, anche qui l'apertura ovviamente dedicata alla politica, Salvini uccide un Berlusconi morto, la Lega vota Bernini presidente del Senato, Forza Italia dice tradimento, lei si ritira, Di Maio dice va bene anche un profilo simile, Re Giorgio, Napolitano, contro il PD, mai in partita. In alto, Casorenzi, il GIP chiede altre indagini, e poi Norma ad Personam, la consulta Salva Zanon, l'auto blu alla moglie. In basso, in Francia, Lagdin, il solito jihadista, noto a servizi e polizia, ne ammazza due, poi in realtà sono tre, in nome dell'ISIS. Il mattino, Lega e Movimento 5 Stelle, prove di governo, Salvini vota la Bernini al Senato, ma lei rinuncia. Berlusconi dice rotta l'alleanza, attenzione alle stelle per le elezioni dei presidenti delle Camere, Di Maio, Montecitorio a noi, sia la proposta del Carroccio, peraltro oggi c'è ulteriore votazione e bassa la maggioranza assoluta, quindi si dovrebbe andare verso la fumata bianca e la retroscena, vedete, il Cavaliere si aggrappa, niente meno che al partito democratico. A centropagina, questioni che riguardano lo sport, Italia e Insigni, ovviamente il mattino di Napoli, focus su Insigni e c'è solo l'illusione del gol, Francia torna il terrore, il nuovo flop degli 0-0-7, Marocchino uccide tre persone in un supermarket, l'analisi dice era addestrato, non ha fatto, non ha potuto fare, tutto da solo. Il messaggero, edizione nazionale, ovviamente, Salvini Di Maio blizza le Camere, la Lega vota al Senato, l'Azzurra Bernini, l'Ira di Berlusconi, il centrodestra si è rotto, Ressa Romani, leader del Movimento 5 Stelle, esulta, sì, del carroccio ad un grillino alla Camera, oggi scontro finale sulle presidenze. In Francia, l'assalto Isis al Market, gendarme eroe, salva gli ostaggi, un uomo uccide due persone, prima di essere abbattuto, 16 i feriti. il manifesto, solito titolo, ad effetto, saluti romani, questa alleanza che sembra essere ormai finita, si sfascia il centrodestra, Salvini offre la Camera ai 5 Stelle, molla Berlusconi al Senato, boccia il candidato Paolo Romani, vota il forzista Bernini che si ritira, la botta provoca la dura reazione del Cavaliere, che parla di un atto di ostilità, rompe la coalizione, in serata girandola di vertici, con i grillini che incassano un primo risultato, il PD è assente. In Francia, triplice attentato, tre morti, l'Isis ha rivendicato, ucciso l'autore degli attacchi. In basso, c'è la Toscana, dopo il voto, questa analisi, verso le elezioni comunali, con la sindrome tripolare, ovviamente dopo il grande successo del 4 marzo, del Movimento 5 Stelle. Il Sole 24 Ore, quotidiano ovviamente di forte rispettazione economica, conti pubblici, manovra da almeno 30 miliardi, se non arriveranno sconti UE, ipoteca sui piani dei partiti. E per la politica, come vedete, due potenziali candidati alla Presidenza del Senato, ravvicinati, Paolo Romani e Anna Maria Bernini, entrambi di Forza Italia, al Senato la Lega vota Bernini, il centro-destra si spacca. In basso, truffe social, il fronte dell'autority, Cardani, intervenire subito sui reati digitali, una babbele di norme, Agicom, antitrust e garante della privacy, puntano a contrastare le varie forme di Datagate. il tempo, anche qui titolo particolare, due di picche, rissa a destra, alta tensione, Cav Salvini sulle presidenze del Parlamento, Forza Italia insiste su Romani, ma il carroccio spariglia e vota la Bernini. Ira Silvio, Matteo sta con i grillini, e la Lega apre un 5 stelle alla Camera. In alto di spalla, parla Cencelli, del famoso manuale, che dice, cercano tutto il potere, peccato che non ce n'è. Consigli non richiesti, Napolitano, re dei flop, vuole ancora dare lezioni. e poi in basso le questioni che riguardano anche qui la Francia, l'Akbar uccide tre persone in Francia, torna all'incubo islamico. Sicurezza, la linea dura di Trump, siamo negli Stati Uniti, arriva il superfalco John Bolton, chi è il diplomatico, scelto da Donald come nuovo consigliere. Andiamo avanti, la verità, colpo di scena al Senato, Salvini strappa con Berlusconi, per rimuovere il vetro dei 5 stelle su Romani, la Lega vota per la forzista Bernini a Palazzo Madama, prefigurando un accordo di governo con Di Maio, l'Ira del Cavaliere, rotta l'unità del centro-destra. E poi l'analisi di Maurizio Belpietro, l'ultimo sfregio di Re Giorgio al Paese, ovviamente Re Giorgio Napolitano. Rezzi al padre, bocca chiusa con i PM, l'ex premier ha imposto il cambio di strategie, sfide ai magistrati per evitare danni politici. Insider trading, vediamo, continuano le indagini, sul colpaccio di De Benedetti con le Popolari. In basso, il ritorno del terrorismo islamico, attentato del nuovo ISIS, tre morti in Francia. Libero, Un italiano su due, si parla di sanità da rottamare, si paga ogni cura. Oltre 35 milioni di persone, compresi poco ambienti e malati cronici, affrontano di tasca propria le spese mediche. Fisco ubriaco, 1.441 pagine per stilare la dichiarazione dei redditi e pensare che volevano semplificare. A centro pagina, Salvini e Berlusconi litigano per questa signora, la Lega vota la forzista Bernini al Senato, anziché Romani, lei si ritira, Silvio Furente, Matteo spacca il centrodestra per governare con il Movimento 5 Stelle. In alto, il solito bastardo islamico, l'ISIS è in crisi ma i suoi uomini continuano a seminare terrore, Marocchino uccide tre persone, ne ferisce altri sedici, in un supermercato francese. In basso, allo sciopero contro la Fiat, partecipano solo in due, Pomigliano, Marchionne, stende i sindacati. Il secolo quotidiano, insomma, che è molto vicino a Fratelli d'Italia, Salvini spiazza tutti, seconda fumata nera al Senato, i senatori leghisi su indicazioni di Salvini, hanno fatto convergere i loro voti su Ann Maria Bernini. In primo piano, attentato ISIS in Francia, Macron però minimizza, scuole piene di stranieri, Oxe, numero che si aggira intorno al 25%, e poi Genova, cinque anni a Vincenzi, la condanna è definitiva. Il secolo XIX, Salvini si smarca da Berlusconi, Senato, la Lega non vota Romani, ma la Bernini, il Cavaliere, la nostra alleanza, dice, è rotta, primi scrutini senza esito, la mossa del Carroccio, apre la strada ad un patto, con il Movimento 5 Stelle. chiudiamo con l'avvenire, Asse, Salvini, Di Maio, centrodestra diviso, Lega su Bernini al Senato, Berlusconi a Tostile, aperta la tredicesima legislatura, subito alta tensione sui presidenti, delle Camere, il Movimento 5 Stelle fa sponda la Lega e lancia segnali per il governo. E poi altre notizie, la consulta sull'Ilva, priorità a vita e sicurezza, ovviamente l'Ilva di Taranto, in Costituzionale, leggiamo in alto, il decreto sull'Alto Forno, ad Agrigento, i taxisti del mare parlano italiano e non solo, ONG, arrestati quattro trafficanti con la Tunisia. Cambiamo adesso quotidiani, andiamo sui quotidiani di matrice sportiva, apriamo con la Gazzetta dello Sport, perché l'Italia, come vedete, resta piccola, l'Argentina ci batte 2 a 0, l'esordio di di viaggio contro i sudamericani che hanno tenuto messi in panca, non convince, solamente 20 minuti di illusione nel secondo tempo, Buffone il migliore dei nostri, insigne, si divora un gol. E poi, di spalla, altre notizie che riguardano il calcio di club, Milan in attesa, quando arrivano i 10 milioni di lì, il bonifico non si è visto, settimana decisiva, altrimenti interverrà Elliot, la banca Elliot. E poi, la nuova vita di Bolt, calciatore, voglio giocare in un grande club, vedete che si sta allenando con la maglia del Borussia Dortmund, in basso, altre notizie di sport, Nibali a Innsbruck, studia il mondiale, il recente vincitore della Milano Sanremo, è andato a fare un sopralluogo sul percorso che a fine settembre darà la maglia iridata, è duro, mi piace, ha detto Nibali. E poi, in questo momento, si stanno correndo le qualifiche del primo Gran Premio della stagione di Formula 1, caccia a Hamilton, domani invece alle 7.10, via in Australia, Melbourne, primo Gran Premio. Giaccio mondiale, Costner, Carolina Costner, peccato, sfuma pure il podio, alla fine, purtroppo, la nostra Carolina è quarta. Corriere dello Sport, testa bassa e pedalare, dopo la terribile delusione mondiale, ripartiamo da 1.02 con l'Argentina, l'Italia ancora, tanta, davvero, tanta strada da fare. In alto il grido che, insomma, è di noi tutti, forza Ferrari, domani mattina alle 7.10, via il Mondiale, Maranello sfida, lo strapotere della Mercedes, in basso, la legge di CR7, Ronaldo strepitoso, ribaltato, l'Egitto di Sala 2 a 1, Brasile show, Germania 1 a 1 con la Spagna. Per altre notizie che riguardano la Juve, Di Bala prende di mira San Paoli, rabbia per le parole del CT, e caccia alla Champions per volare in Russia, e poi Conti del Milan, tutta la verità, fenomeno Bolt, Borussia stregato. infine chiudiamo con tutto sport, perché c'è una falla nel Real, si legge con la foto di Zidane, Juve ovviamente missione Champions, la squadra di Zidane, tra dieci giorni, affronterà proprio la Juventus, parla anche le grottaglie, che dice, io li ho battuti già, e vi spiego come si fa. Di spalla Italia 0-2 a Manchester, è un'Italia piccola, l'Argentina vince anche senza Messi, e poi Sirigu al Torino, resta e rinnova, altri segnali da Glick. Milan giallo sui 10 milioni di lì, Elliot aspetta, patinaggio d'erosione Carolina, solo quarta ai mondiali. Parte il mondiale con i veleni in pole position, e vi diamo già la pole position, perché è di Lewis Hamilton, secondo Kimi Raikkonen, che prende la prima fila, terzo Sebastian Vettel, dunque al secondo e al terzo posto dei due Ferrari, ovviamente dietro alla freccia d'argento, del campione del mondo, Lewis Hamilton. Ci fermiamo per questa prima parte di mattino 6, adesso le previsioni meteo, poi la pubblicità, poi rientriamo, all'interno dei quotidiani di casa nostra. Seconda parte di mattino 6, come detto, entriamo all'interno dei quotidiani di casa nostra, ripartiamo con il centro, perché quella di oggi è una giornata, come vedete, particolare, perché oggi si spengono le luci, torna l'ora della terra, iniziativa del WWF, in molte località, per sensibilizzare, al rispetto del pianeta, la regione intanto lavora, al piano per fronteggiare, i cambiamenti climatici, che ovviamente non riguardano solo la nostra regione, e poi in basso vediamo otto documentari, per raccontare chi siamo, resi noti i vincitori del bando regionale, stanziati 200 mila euro, per sostenere i progetti. Ma quella di oggi, ovviamente è una giornata particolare, perché, insomma, è iniziata la legislatura, con l'insediamento delle due camere, e come vedete, lo scenario, D'Alfonso vota al Senato, ma non si dimette, il governatore, sempre più orientato a non lasciare la regione, fino a quando la commissione esaminerà i casi dei doppi incarichi, vedete proprio il governatore della regione Abruzzo, seduto sui banchi di Palazzo Madama, tra i senatori, ovviamente, del Partito Democratico. E proprio riguardo al governatore della regione, sono arrivate le parole dell'assessore di missionario Donato Di Matteo, che dice, dobbiamo superare il dalfonsismo, l'assessore di missionario, dice, una grande coalizione e gestione collegiale, altrimenti siamo destinati alla sconfitta, quella che viene definita una maggioranza, in crisi, leggiamo alcune parole, io e Gerosolimo non partecipiamo più alle giunte, né ai consigli regionali, vogliamo un cambio significativo per evitare il peggio. Correremo alle regionali con Abruzzo insieme, un movimento che va oltre gli steccati dei partiti, per battere populismi e trasformismi. intanto Forza Italia, come vedete, di spalla, dice, D'Alfonso faccia come la Serracchiani e si dimetta subito, queste le parole, ovviamente, del centro-destra. Entriamo adesso all'interno delle città, siamo a Pescara, è sempre sul centro, scoperto falso dietologo, con 400 clienti, svolgeva la professione, pur non essendo laureato. La finanza, che lo ha denunciato due volte, sequestra il suo studio. Ancora cronaca, sempre a Pescara, spaccia droga in casa, ha 80 anni, pensionato, finisce ai domiciliari, operazione della squadra mobile. Andiamo avanti, perché torniamo sulla vicenda dell'omicidio di Alessandro Neri, sequestri in due società e spunta la pista a gelosia. Blitz della Guardia di Finanza, nelle aziende, portatevi e carte e documenti, altre ipotesi investigative, il rancore di un amico o del fidanzato di una ragazza. La madre scrive al Papa, che dice, aiutami a convertire, ovviamente, chi ha ucciso il figliolo. a centropagina, Rigopiano, l'assicurazione non risarcisce. Per la compagnia della provincia, la polizza esclude i danni derivati da calamità naturali. Vedete nella foto, proprio Giampaolo Matrone. Andiamo avanti, cantiere sul mare, lavori sulla riviera sud, scoppia la lite in consiglio. Tra poco vedremo, proprio i lavori sulla riviera sud e anche sulle parole del vice sindaco di Pescara Blasioli, perché la centrodestra ha cancellati centinaia di posti auto, invece Blasioli dice, è una bugia, un ordine del giorno di Forza Italia, poi bocciato in aula, scatenato la bagarre, l'amministrazione conta di aprire entro l'estate questo nuovo parcheggio, ma parte subito una diffida dei residenti, bloccate subito la nuova strada, polemiche anche sulla realizzazione di un percorso tra via Figlia di Iorio e il lungomare. Allora vediamo questo servizio che riguarda proprio i parcheggi da realizzare entro l'estate. Vediamo. Sarà l'area verde di via Barbella a Pescara ad accogliere i parcheggi estivi mancanti a seguito dei lavori di riqualificazione del lungomare sud di Pescara. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale che risponde così alle critiche mosse dal centrodestra anche all'interno del Consiglio Comunale rispetto alla perdita degli stalli auto che avrebbe messo in crisi le attività balneari presenti nella zona dell'auditorium flaiano. I lavori appena partiti termineranno tra 120 giorni ma saranno sospesi nella parte della riviera prima dell'estate per consentire l'accesso agevole alle spiagge. Durante la bella stagione la ditta che ha vinto l'appalto si occuperà comunque della realizzazione della nuova piazza antistante ai teatri lasciando operativi gli stalli sul lungomare Cristoforo Colombo nella via che conduce a Via Figlia di Orio. Al termine dei lavori sul lungomare riqualificato saranno 30 i parcheggi la restante parte solo per l'estate sarà assorbita dall'area verde dietro il parcheggio a servizio dei teatri. L'area verde di Via Barbella è un'area di 5100 metri quadri a 25 metri di stallo di sosta ad auto riusciamo a recuperare 190-200 macchine ma vogliamo dire anche una cosa alla città recuperiamo una zona dopo tantissimo tempo allargando la passeggiata facendo la pista ciclabile facendo una piazza di fronte ai teatri di Annunzio e Flaiano una piazza molto bella che consentirà a questa zona di vivere anche l'inverno e non più soltanto l'estate e soprattutto la vera ragione di questo progetto faremo in modo che venga eliminata la strada che corre di fronte ai teatri soltanto a partire da settembre per permettere il parcheggio anche lì quest'estate e il ricongiungimento dell'area ex camping che aprì io come assessore nel 2008 con l'area verde che corre proprio di fronte ai teatri in modo che dalla riserva si possa arrivare tranquillamente al mare questo parcheggio non ha bisogno di grandi spese economiche è un parcheggio che ha bisogno soltanto di un decespugliamento delle canne che ci sono non verranno toccati gli alberi non ci saranno altre opere ed in questo parcheggio c'è già un ingresso molto comodo quindi per quest'estate sicuramente avverrà e poi diciamo abbiamo bisogno invece di un lavoro più duraturo andiamo avanti rimaniamo sempre sul centro nomine BCC tre notari indagati per falso chiusali inchiesta sulle deleghe irregolari dell'assemblea 2015 coinvolti professionisti Buta, Faieta e Mastro Berardino cambiamo pagina andiamo a pagina 23 la figlia di Grasso esorta gli studenti non all'indifferenza il commerciante venne ucciso dall'andrangheta nell'89 l'istituto alberghiero lo ricorda per il premio Borsellino prima di andare a Francavilla andiamo a Pescara rimaniamo a Pescara ma sulle colonne del messaggero colture bruciate dal freddo grido d'allarme della Coldiretti posticipata la semina delle fave danni a cavoli verze, finocchi e carciofi scorrano olivi con foglie ingiallite che quest'anno non produrranno olio e poi Casa Agbe raddoppia per pazienti e famiglie andiamo avanti due società dietro gli affari di Ale ovviamente Alessandro Neri le fiamme gialle visitano le sedi e le abitazioni dei titolari effettuati i sequestri da capire i legami con il ragazzo ucciso mamma Laura pubblica su Facebook una lettera inviata il 13 marzo al Papa aiutami a scoprire il colpevole per la cronaca la finanza scopre un falso dietologo visitava pazienti in centro a Pescara e un 59enne del Chietino con 400 clienti in diverse città studio perquisito e poi ovviamente sequestrato di spalla ancora cronaca nonno spacciatore cocaina nascosta nei vestiti 80enne arrestato nel rione Zanni elezioni BCC qui ritorna la questione notai sotto accusa in tre rischiano il processo per falso per deleghe sottoscritte dai soci nel 2015 secondo la finanza erano assenti quando furono autenticate le firme per la lista Falconio che uscì sconfitta e poi a Rigopiano nessun risarcimento per Matrone scontro sulla polizza della provincia per l'appunto di Pescara andiamo all'Aquila sempre sul messaggero i negozianti dateci un aiuto con i fondi della ricostruzione gli indennizi sarebbero per le perdite sostenute con il protrarsi dei lavori la riapertura del corso di via Garibaldi permette ora agli operatori di respirare e poi scendiamo in basso perché c'è la polemica centinaia di casi sul mercato la Cimoroni attacca la giunta e poi Don Piccoli c'è di mezzo il demonio il sacerdote è accusato di aver strangolato un religioso di 92 anni queste sono insomma le parole per con cui si discolpa evidentemente addio all'elettrodotto di Terna siamo a pagina 47 sempre del messaggero la linea sarà finalmente interrata con una serie di vantaggi ambientali di gestione ed estetici verrà aumentata la sicurezza tra progetto esecutivo e completamento dell'appalto sarà necessario un periodo di tempo piuttosto lungo e poi foto e video gli allievi di cinematografia illustrano le potenzialità della montagna e flussi turistici in calo perché pochissime presenze arrivano dall'estero andiamo ad Avezzano anche di questa notizia tra poco vedremo il servizio perché l'intesa con l'UDC De Angelis resta sindaco il primo cittadino ha ritirato le dimissioni ora sarà presentata la nuova giunta con le novità l'ex vice Cipollone lo accusa questo è alto tradimento decisivo anche il sostegno del gruppo noi con Salvini allora andiamo a vedere le ultimissime proprio sulla politica di Avezzano la consigliatura del sindaco di Avezzano Gabriele De Angelis al momento è salva scongiurato l'effetto anatrazzoppa che dopo la sentenza del Consiglio di Stato aveva tolto la maggioranza al sindaco assegnandola alla coalizione dell'ex primo cittadino Giovanni Di Pangrazio De Angelis quindi si appresta a revocare le dimissioni già a partire da lunedì grazie all'ingresso in maggioranza dell'UDC e della Lega ci siamo confrontati negli ultimi 2-3 giorni sul programma sugli eventuali aggiustamenti da portare proposti anche dai consiglieri dell'UDC e della Lega ma avevamo già lavorato per le politiche quindi è stato un lavoro veloce semplice e io mi sento anche di dover ringraziare i componenti e consiglieri dell'UDC e della Lega perché hanno dimostrato veramente un altissimo senso di responsabilità e sono contento perché ci siamo confrontati su temi che riguardano le esigenze del territorio abbiamo rivisto per quanto riguarda la Lega l'aspetto del sociale ha voluto marcare questo aspetto sociale e sicurezza quindi sono cose che hanno trovato in me la piena condivisione l'UDC aveva avanzato qualche idea nuova per quanto riguarda l'aspetto strategico infrastrutturale della città e anche le situazioni che riguardano le aree produttive insomma cose interessanti che poi avremo modo di spiegare nel particolare nei prossimi consigli comunali dunque nella futura maggioranza prodano quattro consiglieri Leonardo Cascere e i centristi Lino Cipolloni Antonio Di Fabio e Luigia Francesconi e a proposito di primi cittadini andiamo a Francavilla perché il primo cittadino di Francavilla fa retromarcia Luciani torna a fare il sindaco conclusa dopo appena una settimana la sua pausa di riflessione svolta dopo un vertice di maggioranza sul caso discount MDP parla di vicenda grottesca a Cepagatti lettera dell'assessore sborgia statale 81 subito la rotatoria andiamo a Montesilvano i residenti del centro giù le mani dall'area pedonale raccolta di firme per il sindaco dei cittadini di via Roma via Mazzini e piazza Diaz non siamo stati consultati non vogliamo lo smog né i mezzi pesanti sotto casa di spalla come vedete commercio incontro per un piano di rilancio c'è stato un vertice in comune in basso un corso di autodifesa per le donne si svolgerà in una palestra di via Tibullo la prima lezione il 28 marzo andiamo avanti sempre a Montesilvano pesca delle anguille il divieto va rimosso dal mercatino ittico di Montesilvano parte un appello alla regione Abruzzo il consigliere Falcone per aiutare i piccoli operatori servono dei finanziamenti cronaca città Sant'Angelo furto all'Iper 45enne bloccato dopo la cassa e poi arrestato a centro pagina alunni alla compagnia del caffè visita degli studenti all'istituto Alessandrini all'azienda di Moscufo a Penne ma soprattutto nell'area vestina servono 1.400.000 euro per le strade del Giro d'Italia richiesti i fondi alla regione per sistemare buche e smottamenti baldacchini metteremo in sicurezza il percorso sapete che a maggio insomma arriverà la carovana rosa per la cronaca furti nei bar banda bloccata in campagna gli albanesi si muovevano su un'audigrigia rubata e nell'auto avevano una parte della refurtiva in basso il caso manoppello con fartigianato autovelox trappola per fare cassa andiamo a Chieti al policlinico arriva il dottor robot il primario Salini sarà in funzione da maggio e consentirà minori tempi di degenza e condizioni di ripresa più veloci per la chirurgia ortopedica e poi davanti all'ospedale però non ci sono le strisce pedonali dal niente strisce pedonali dal parcheggio e come vedete persone che sono costrette ad attraversare la strada in fretta e furia turni extra in Sevel Fium sciopera a Tessa il segretario Labbrozzi basta sabati e domeniche trascorsi a lavoro e sentiamo allora nel servizio le sue parole la Sevel continua in perterrita a chiedere straordinari a chiedere una prestazione lavorativa a sabato e domenica la Fium continua a scioperare perché non è d'accordo su questa impostazione noi crediamo si debba aprire una vera discussione che si debba confrontare su tutta una serie di esigenze che stanno sul tavolo e che purtroppo l'azienda continua ad ignorare le persone non ce la fanno più si parla di straordinari si parla di recuperi si parla di l'anno scorso ci sono stati tanti recuperi anche a cambio turno i carichi di lavoro sono aumentati continuano ad aumentare a vista d'occhio e quindi c'è un'esigenza fondamentale quella di tornare a discutere e tener conto di quelli che sono i bisogni delle persone che lavorano nel frattempo è riuscito lo sciopero di 4 ore proclamato unitariamente in denso abbiamo deciso di scioperare perché la trattativa per rinnovole del contratto aziendale ormai è ferma da oltre un anno abbiamo deciso di scioperare perché abbiamo in quello stabilimento oltre 30 lavoratori precari e l'azienda si rifiuta di voler assumerli e poi perché pensiamo che sia giusto rimarcare un elemento che per noi è fondamentale cioè l'uomo non può essere surclassato dalla produzione ultimamente la gestione delle relazioni sindacali soccombe a quelle che sono le logiche della produzione e noi vogliamo che pretendiamo che sia rimessa al centro il valore dell'uomo perché l'uomo tira fuori un valore dentro lo stabilimento e non il contrario quindi oggi abbiamo scioperato per 4 ore gli scioperi sono andati benissimo e nei prossimi giorni se le cose non dovessero cambiare noi torneremo sicuramente a scioperare rimaniamo a Chieti ma sul colonne del ovviamente rimaniamo in provincia di Chieti ma sul colonne del messaggero prof dell'atereo condannato ubriaco causò un frontale un anno di arresto e 6 mila euro di multa per Paganelli noto docente di medicina tasso alcolico quasi 6 volte superiore al limite stop alla patente per 24 mesi nella foto l'incidente del 2016 causato proprio dal professor Paganelli il caso 1 altri casi abusò degli allievi va ai domiciliari vittime in allarme ora può fuggire il caso 2 mirò l'impresa preme per i lavori il WWF presto l'udienza del Tar e poi giovane arrestato per l'assalto alla parafarmacia il vizietto della rapina sciopero alla denso come avete visto alta tensione stop di 4 ore a turno nella fabbrica con 1.164 dipendenti secondo le stime dei sindacati fermo l'85% degli operai c'è preoccupazione nessuna certezza sui futuri investimenti non comincia il piano industriale stop alla Sevel oggi e domani altre notizie processo per la casa famiglia divasto maltrattamenti anziani racconti che si contraddicono andiamo a Teramo mini ospedale la ASL non taglia più medici per i codici bianchi l'UCCP di circonvallazione Ragusa non scomparirà né verrà delocalizzato sindacati soddisfatti aumentano le risorse anche il personale fino al 31 di dicembre di spalla mamma cocaina la droga nascosta nel condizionatore e poi per la politica Cavallari chiude la porta al PD candidato sì ma al di fuori dei partiti e poi il caso dei bus la protesta degli studenti abbonamenti agevolati e più corse quello che chiedono a Giulianova stalker dal cuore matto mistero Samir punta sulle perizie calligrafiche la difesa del coltivatore settantenne finito in carcere per le minacce per aver perseguitato una quarantasettenne l'avvocato c'è un'altra firma in quelle lettere piene di offese punta il dito contro l'ex marito della figlia della donna straniera questioni che riguardano ancora la sanità ospedale di Santomero ecco la nuova TAC in funzione proprio al presidio ospedaliero Val Vibrata di Santomero apparecchiatura di ultima generazione per la cronaca coltellato a scuola sospeso anche lui di spalla pista ciclabile si chiama dal badriatica lungo il Vibrata via gli espropri per il cantiere qui siamo per aprire la pagina dello sport allora torniamo sul centro per rimanere in provincia di Teramo alleanza civica che a sceglie d'Alberto sarà il suo candidato sindaco svolta nella riunione tra i rappresentanti delle cinque liste oggi l'investitura nella sala polifunzionale Cavallari rilancia la mia candidatura resta ferma il sostegno di tanti cittadini mi dà coraggio e poi subito un aiuto ai terremotati prima iniziativa dei tre neodeputati teramani del movimento cinque stelle ancora teramo e provincia senza diritti 400 addetti alle menze stipendi in ritardo estraordinario non pagati la filcams CGL chiede agli enti di evitare gli abusi già nei capitolati di appalto a centropagina CIRSU finora nessuno ha rimosso i rifiuti ieri vertice in prefettura il CSA ha fino al 14 aprile per le sue 9 mila tonnellate la DECO invece un mese in più Pineto premio al vigile del fuoco che ha salvato un ragazzo oggi il sindaco consegna una targa a Federico Pelusi per il suo intervento la notte di capodanno estrasse il giovane dall'auto in fiamme dopo un incidente e poi invece ad Atri a Stolfi la discarica non si allarga il sindaco e Ferretti abbiamo cancellato l'ampliamento dal PRG rapidamente all'Aquila a Campo Imperatore c'è il giallo riapertura ennesimo rinvio dell'autorizzazione della regione si dovrebbe tornare a sciare dalla settimana di Pasqua e il centro turistico assume 15 stagionali la giunta ha deciso che i due contratti dureranno fino al 30 avanti aprile spesa tra i 150 e i 200 mila euro poi confessi l'omicidio del prete processo a Don Piccoli a Trieste in aula spunta la lettera anonima che accusa l'ex parroco di Pizzoli accusato proprio dell'omicidio e poi derby vietata la vendita di alcolici ordianza del sindaco dell'Aquila Biondi misure di sicurezza per la sfida di domani contro Lavezzano qui siamo già allo sport e allora andiamo sulle colonne della città per rimanere in provincia di Teramo perché c'è il i vincitori del bando dedicato al cinema otto i soggetti che beneficeranno del contributo regionale per le produzioni che raccontano l'Abruzzo andiamo all'interno il processo il crack Tercas ha paralizzato la fondazione ingenti danni patrimoniali ed immagini dal dissesto della banca con tagli a iniziative sociali e culturali dai 25 milioni precedenti al crack ai 3 per il triennio in corso ecco i numeri del consulente di parte civile centro-sinistra al voto Dalberto e Cavallari avanti ognun per sé i civici di centro-sinistra rispondono no a Renzo di Sabatino più diverso una lista di partito con un candidato di bandiera centro-destra al voto senatore Quagliariello pensaci tu dietro Morra la lotta per la leadership del centro-destra tra Di Dalmazio e Gatti e come vedete il centro-destra è diviso in blocchi e sono anche tanti i nomi che gravitano e che potrebbero essere spendibili come candidato sindaco Unità UCCP trovato l'accordo per tenerle aperte siglato il patto tra ASL sindacati dei medici di base e cooperative per rilanciare la medicina del territorio e come abbiamo visto qui questo selfie primo giorno alla Camera per i deputati terramani pentastellati una vita da social torna in piazza iniziativa della polposta dei corecom contro il cyberbullismo martedì sarà a Teramo ancora agenti promossi ma solo sulla carta la paradossale situazione di quattro polizionati penitenziari di Castronio i sindacati scrivono a Mattarella burocrazia la corte dei conti ha rilevato un vizio di forma nella procedura di promozione bloccando tutto l'iter che portava appunto alla promozione teatro romano referendum sfida e opportunità il presidente del comitato Carlo Di Marco raccoglie e rilancia la riflessione dell'architetto Franco Esposito questioni universitarie Unite studia la comunicazione non verbale la senti questa voce proseguono all'università di Teramo i seminari aperti del ciclo Craino e poi andiamo avanti in provincia liberalizzati gli orari delle discoteche la Fipe Silb chiede ai comuni di applicare subito le disposizioni della sentenza del tribunale di Milano accesso agli atti per il ponte sul vomano per il consigliere regionale Bracco esistono aspetti non completamente limpidi sull'opera ancora cronaca intrappola la banda dei parcometri rubati centomila euro in tutta Italia colpito anche il lungomare di Alba Adriatica e come abbiamo visto anche in precedenza operativa la nuova TAC dell'ospedale di Sant'Omero macchina di nuova generazione efficace in ambito oncologico e traumatologico e traumatologico andiamo avanti spacciacoca all'insaputa del marito in manette una quarantenne di Mosciano che nascondeva la droga nel condizionatore in basso Giulianova confermata anche quest'anno la bandiera verde siamo a Roseto volano stracci dentro libere uguali Ciancaione contrariata per l'incontro tra Sabatino Prosperi e Simone Aloisi spiagge a rischio la recinzione del cantiere sarà rimossa siamo a Silvi tramonta per il momento la realizzazione dei pennelli a Silvi che resta bloccata almeno fino al prossimo anno apriamo adesso la pagina di Sport ripartiamo dal centro con questa notizia Renzetti Angelo Renzetti patron del Lugano Candeloro un asse per il Pescara il patron del Lugano conferma ho parlato con Sebastiani il progetto futuro l'imprenditore pescarese ieri in città il presidente del Francavilla si avvicinano sempre più alla società Bianco Azzurra in serie C Teramo Rebus Bifulco Ventola Rientro contro la Triestina il portiere rischia il forfè per un infortunio muscolare Palladini mette in preallarme il Baby Daniello andiamo avanti l'Aquila calcio bilancio ok servono nuovi soldi per evitare il peggio il club rosso-blu approva il rendiconto ma a fine stagione bisognerà trovare le forze fresche per il prossimo anno l'Avezzano con cui domani l'Aquila giocherà il derby vuole blindare il terzo posto 200 i tifosi al seguito della formazione bianco-verde basket di Paolo Antonio ovviamente siamo a Roseto uniti per la salvezza di Roseto mentre in casa Teramo il nuovo Teramo riparte a caccia dei play-off l'amatori vuole il derby giocherà contro Giulianova andiamo sul messaggero ovviamente ripartiamo dal Pescara inizia il ciclo verità per i bianco-azzurri in meno di 30 giorni la squadra di Epifani disputerà sei partite chiave domani arriva la capolista Empoli all'Adriatico al momento pare dura Mazzotta e Cappelluzzo sono ok maglie pro Ollus Oddo in basso l'Aquila si va verso la liquidazione del club la vecchia proprietà ha stabilito la fine del suo ciclo congelate le dimissioni dell'amministratore delegato Miani che vedete in foto Teramo Tridente con Tulli Palladini opta per la formula offensiva Daniello 15enne figlio d'arte andrà in Panchira per il Futsal Acqua e Sapone contro Napoli esattamente come accaduto 4 anni fa andiamo adesso a concludere proprio sul centro con Teramo Triestina che sono due malate di pareggite gli alabardati conducono 14 pareggi a 13 contro il Teramo ma stavolta una vittoria serve ad entrambe le formazioni Bifulco è out gioca calore in basso parte l'edizione 57 del torneo delle regioni l'Abruzzo è protagonista per il basket Teramo via all'era di Francesco Gramenzi abbiamo buone basi dovremmo mettere i ragazzi a loro agio Ruscitti dice bisogna lottare fino alla fine con questa notizia noi chiudiamo mattino 6 che ovviamente torna la settimana prosia lunedì a partire dalle ore 8 io vi ricordo alle 14 la prima edizione del nostro telegiornale con le notizie della nostra regione è tutto e buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti